Duro colpo da parte dei carabinieri della compagnia di Giuliano in campagna al traffico di droga e alla criminalità organizzata in un contesto sociale dove l'attenzione è sempre alta. A fratta maggiore i militari dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato 500 kg di cocaina purissima. La droga è stata rinvenuta in un capannone della periferia del comune napoletano su cui sono in corso indagini. La cocaina che avrebbe fruttato oltre 50 milioni di euro nell'aventi dal dettaglio era nascosta in 20 cartoni contenenti diverse confezioni solitamente utilizzate per la frutta. A fratta maggiore e nei comuni limitrofi recentemente teatro di importanti arresti da parte dei carabinieri di Giuliano nell'ambito di operazioni coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli sono in corso indagini sulla provenienza della sostanza stupefacente per individuare i relativi responsabili. Le indagini sono dirette dalla procura distrettuale di Napoli.